Eccoci, siamo qui a Facciamolo, puntata suppongo 19, poi non so, magari è la 20, magari è la 18 e siamo qui con la signora Shadia Rodriguez. Ciao a tutti. Signora? Signorina. Beh, sapevo di essere... È partito benissimo sto voto. No, no, signora va bene, signora va bene. È elegante comunque. Sì, sì, però preferisco, non sono una signora. Ok, è un gran vibe. Sì, sì, super vibe. Allora, Shadia è una rapper, però anche cantante, perché spazi molto a livello di generi e io chiedo sempre, vorresti, diciamo, definirti in qualche altro modo? C'è un'altra ottica con cui ti definiresti? Semplicemente artista. Ok. Non mi piacciono tante definizioni, tante... Poi sì, ci sono le sfaccettature e tutto, però artista va benissimo. Ok. Bene. Ultimamente hai droppato? Sì. Hai droppato criminale, giusto? Sì. Che tra l'altro rimane in testa, c'è Luke, che rimane troppo in testa. Allora, sono contenta. Sì, ogni volta che vedo che ha posti sulle storie due giorni, c'ho... Allora devo iniziare a postare totalmente in tutti i giorni, ok, ok. Così inizierete a odiarmi, perfetto. E stai andando verso la direzione, insomma, un po' più latina, giusto? Sì, perché mi piace molto di più il loro pensiero, come si vivono le piccolezze, la musica, la vita, ma soprattutto la sessualità. Diciamo che in più sfaccettature mi rivedo più in quelle vibe che in queste, quindi sì. Chiaro, chiaro. Che ti piace della sessualità del mondo latino? T'ho curioso. Che scopano, non si fanno problemi. Ok. Cioè, senza stare a girarci intorno, capito? Sì, sì, non si fanno problemi. Ho assistito a una scena in Argentina, che te lo giuro, credo che non mi scorderò mai, per tutta la vita. Avevo cantato dopo, prima di un artista super big là per loro e non solo, e poi siamo finiti a fare feste insieme, poi siamo finiti in hotel. Lui era, questo artista era dentro a scoparsi questa ragazza, proprio detto così, e in salotto, con noi a far festa, c'era la madre. Bellissimo. Io sono, cioè, a parte il fatto che me ne sono resa quanto dopo che la ragazza è uscita, perché mi ha detto, è arrivata mia figlia, devo andare, io ero tipo... La madre di lei? Sì. Ok, ok. La madre della ragazza dentro, io ero tipo, wow, cioè, nel senso, magari qualcuno dirava, magari è un po' troppo, sono punti di vista. Però era, boh, mi è sembrato figo lì per lì, per come si vivessero proprio la sessualità, che poi magari l'avessero fatto per secondi fini, per scoparsi l'artista di turno famoso, non mi interessa. Era figa proprio la concezione di come si vivessero il tutto. Sì, sì, sì. No, il fatto che una madre possa accompagnare la figlia, cioè, sapere che sta lì, magari non si sa che stanno a far dentro e accettarlo e dire, ok, anche termini... Sì, sì, ma secondo me lo sapeva. Ok. Cioè, secondo me quando era uscita gli era raccontato, però... Sì, figo. Gli hai chiesto pure com'ha nata. Sì, secondo me sì, secondo me sì, ti dirò, perché per loro il sesso è veramente importante, molto importante, e secondo me è figo anche il modo in cui poi lo riversano sulla musica e come se la vivono. Sì, lì c'hanno proprio, anche nei testi, parlano super esplicitamente... E io lo amo, lo amo con le menti, cioè mi ci ritrovo molto di più nei testi latini che nei testi di qualche artista italiano, che infatti è quasi impossibile. Anche perché in italiano, io un po' di musica la faccio, ma in italiano mi sono sempre sentito molto strano a scrivere... Quasi criticato. Sì. Perché le persone non capiscono, cioè io in primis parlo di me stessa, no? Perché non voglio che le persone si sentano giudicate, ma più che altro capite, e quindi si possono rivedere in quello che sto cantando. Invece quando vai ad ascoltare le canzoni di altre persone sembra quasi che vogliono sempre dare la colpa a qualcuno, quindi non riesci mai a godertelo fino in fondo. Invece là è solo musica per ballare, divertirsi e anestetizzare anche tutti gli anni di merda che abbiamo passato, proprio detta così. E quindi è molto più figo, secondo me. Cioè questa come intenzione con la tua musica? Sì, di anestetizzare un po', anche perché comunque tutti abbiamo veramente problemi, solo che c'è chi ne parla un po' di più sui social e secondo me ci sono persone che lo fanno anche in modo sbagliato, perché comunque sì, bello, giusto parlare di alcune cose, ma bisogna saperlo fare, perché in modo e intenzione sono tutto nella vita. Poi ovviamente le persone sbagliano, tutti sbagliamo, però alla fine l'importante è capire chi vuoi diventare dopo l'errore. Questa mi è piaciuta come cosa. Io sono molto fan della questione legata all'elaborazione dell'errore, no? Cioè gli americani dicono win or learn, vinci o impari, noi diciamo sbagliando si impara, no? Che sono due filosofie simili. Un po' ma diverse. Sì, a me piace più la visione americana, cioè nel senso che non c'è quasi il concetto di sconfitta, ma c'è la lezione. Fido, fio. Inizierò ad utilizzarla anche io. Questa cosa che hai appena detto, chi vuoi essere dopo un errore è bella. Grazie. Mi ricorda anche magari le dinamiche che ci possono stare in psicologia, no? Quando prendiamo consapevolezza, cioè spesso si pensa che uno vada al terapeuta e è quello che risolve i problemi. Magari uno avesse questi magici poteri, in realtà è un discorso di acquisizione e consapevolezza di come funzioniamo e poi sta alla persona a un certo punto rompersi le palle e dire ok, voglio cambiare, no? Quello sì, quello sì. Infatti io quando ho iniziato il percorso col mio psicologo, a parte il fatto che l'ho voluto, perché tutte le altre volte che ci sono andata secondo me erano un po' cazzate sinceramente. Quindi quando ho deciso di andarci veramente mi sentivo in realtà molto contenta, cioè soddisfatta dopo le nostre sedute. Perché a parte il fatto che avevo una conversazione con... è brutto quasi da dire, ma una persona alla mia altezza che riuscisse a capire i miei pensieri, no? E lui stesso è rimasto molto affascinato da me perché gli esponevo i miei problemi o comunque gli esponevo i miei errori, però ero molto consapevole di tutto e lui era molto affascinato da questo e mi diceva, cioè nel senso, tu mi dici le cose però ti rispondi anche da sola. Quindi nel senso, alla fine noi stiamo avendo una conversazione, io non ti sto dicendo niente di quello che dovresti fare o quello che dovresti dire. Quindi è anche appagante quando sei più consapevole, secondo me. Sì, sì. È un po' il primo passo. È quella cosa che a un certo punto ti rendi conto di essere uno strumento per cambiare effettivamente in meglio rispetto a quello che magari finora non è andato. È difficile arrivacci a capire che uno poi si può muovere, no? Ma alla fine deve essere il meglio per te perché poi riusciamo a farci coinvolgere, cerchiamo l'approvazione, non riusciamo mai ad avere un nostro reale pensiero perché tutto quello che ci circonda è contaminato. Quindi secondo me dovremmo veramente prenderci più del tempo per noi stessi e riflettere su quello che vogliamo, quello che ci piace, quello che non ci piace, delle persone, del cibo, degli spazi che viviamo perché poi tante volte viviamo delle robe oppure usciamo giusto per uscire e diciamo, ma io che cazzo ci sto a fare qua? Perché sono con queste persone? E quindi alla fine non ti godi neanche la vita, cioè la vita è fatta per essere vissuta, che cazzo! Infatti questo discorso l'hai nominato poco fa, la questione dell'approvazione, no? E io mi sono sempre chiesto magari come un artista potesse vivere il classico connubio che ci deve essere tra quello che vuoi fare, come ti vuoi esprimere artisticamente e quello che ti chiede un po' il pubblico, il mercato e quello che sia, come te la vivi sta cosa? Soprattutto dopo che hai scelto e hai detto, poi voglio fare un po' di musica latina. Allora sicuramente non è semplice perché ovviamente ci sono sempre tutte le varie sfaccettature perché poi quando fai un lavoro del genere ci sono più persone che lavori, cioè è come se fosse una grande macchina all'interno ci fossero tanti mini piccoli o mini che lavorano tutti insieme per far lavorare questa macchina perché se non lavorano tutti insieme la macchina non va. Ovviamente l'approvazione finale, se vogliamo chiamarla così, la do sempre io però diciamo che ha più passaggi ecco perché poi quando si ha a che fare con diciamo delle discografiche o comunque delle realtà più grosse, cioè comunque ovviamente bisogna restare nei limiti. E devi dare conto. Sì, ovviamente, anche perché se no io magari faccio delle cazzate, non lavoro, loro non lavorano, cioè ci rimettiamo tutti, quindi alla fine cerchiamo di trovare un giusto compromesso per tutti senza che io alla fine tolga qualcosa a me stessa perché poi alla fine nessuno vuole questo. Chiaro, chiaro. Quindi te la vivi abbastanza serena, cioè ti ho sentito serena. Sì, 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 molto chill, molto chill. Sì perché alla fine deve essere questo perché se ti inizi a sentire forzato nel fare qualcosa, allora secondo me il bello di fare questo lavoro è che hai la possibilità di, cioè è come quando fai proprio il lavoro dei tuoi sogni, no? È quel detto classico detto che ti dicono quando trovi il lavoro che ti piace come se non lavori neanche un giorno della tua vita. E che ne pensi di questo detto? È vero, però ovviamente ci sono delle sfaccettature, cioè nel senso devi trovare il giusto connubio, il giusto compromesso, ecco. Quindi devi dare delle cose, le persone che ti circondano devono dartene altre, è un dare avere. È come nella vita di base, quindi è questo. Chiaro, chiaro. E senti, invece la sessualità è sempre stata abbastanza presente nei tuoi testi e anche in modo flex questa cosa secondo me è un sacco reazionaria, no? Perché c'è sempre comunque in Italia, ma in generale un po' nel mondo c'è la concezione della donna che si dichiara di essere una persona che scopa, che gli piace il sesso e tutto quanto viene vista in malo. E invece tu hai sempre puntato, hai detto, vi parlo di come vivo la sessualità, come... cioè anche descrivendo delle cose, cioè figo, figo, cioè... Ma è come quello che ti dicevo prima, cioè volevo che le persone non si sentissero giudicate ma più capite e quindi si potessero rivedere, cioè alla fine è quella la musica, non ti devi sentire giudicato pure dalla musica, sono anche due palle, cioè nel senso... Quindi l'unica cosa che potevo fare era parlare della mia vita, la mia vita è bella focosa se vogliamo dire così, quindi perché non metterla in ballo? Poi vabbè, ci sono piccole sfaccettature come ti dicevo prima, delle volte sono più dominatrice, delle volte un po' meno, ci sta diciamo la doppia faccia della medaglia, ecco. Sì, prima della diretta ovviamente, perché non si capisce. Sì, prima della diretta abbiamo fatto tipo una conversazione di venti minuti... Di sesso ovviamente, solo sesso. Sì, sul sesso e sui vari approcci, le varie... le varie parafilie, perversioni, che dir si voglia. E è uscita fuori sta cosa che tu sei un po' switch. E prima mi hai detto una cosa che secondo me è molto figa, mi hai detto se bevo, se sto un po' alticcia, domino, invece se no solitamente sono un po' da... Sì, poi è difficile trovare qualcuno che riesce poi a incastrarmi nei binari per farmi tipo... fare la sottomessa, però... è figo. Alla fine sono tutte esperienze che vanno vissute, cioè prima o poi si troverà la persona giusta che sa inquadrare la cosa. Chiaro. Come ti vivi il sesso? Facendolo. Ok. No, dico, concettualmente è una cosa che ti sei sempre vissuta bene, essendo comunque le cose... No, ti dico la verità, ho imparato cos'è facendolo, cioè realmente. Penso che la prima volta che ho approcciato il sesso ho trovato una chiavetta per caso in casa, l'ho toccata in tv, ero da sola, sapevo che cazzo fare, ero piccola poi, ero tipo seconda, terza media, la prima volta che scoprivo seghe, pompini, tutta questa roba qua, e in sta chiavetta c'era un porno. E quindi da là ho iniziato a capire, però da una parte ero anche un po' riluttante, no? Perché vedevo tutte queste ragazze che tipo urlavano come delle matte, non capivo, dicevo ma anche io... Dicevo ma queste fanno casino. No, ma più che altro dicevo ma anche io devo fare così, cioè non capisco. Quindi poi in realtà pian piano crescendo, le prime esperienze, le prime cose, ho capito che cos'è il sesso. Più che altro che cos'è il sesso per me, perché poi varia da persona a persona. Assolutamente. Questa è una cosa importantissima. E ti sei riuscita a distaccare a quello che è l'immaginario pornografico? Perché noi come generazione, ma in generale anche quelle un po' più fresche, hanno molto la cosa che l'educazione sessuale purtroppo in Italia si fa con la pornografia. Cioè che non è educazione sessuale. Non è solo che si fa con la pornografia, ma... Tralasciando il fatto che la pornografia di base è diretta solo per voi uomini. In più l'educazione sessuale a scuola è direzionata sempre per solo voi uomini. Cioè il preservativo dentro la banana si insegnano a voi come metterlo, ma non è che a noi ci dicono... No, non dicono la roba di educazione sessuale che fanno. Niente. Quindi diciamo che a un certo punto ho capito che erano delle dipendenti. Cioè nel senso lavoravano. Poi crescendo, conoscendo poi delle pornattrici, ho scoperto che alcune pornattrici odiano fare nella vita vera quello che vedi fare magari nei video porno. Magari le peggio cose. Poi nella vita vera magari sono sesso vaniglia. Coccole, grattini, bacini. Adoro. Sì, ci ho avuto Ria e qui ospite. Abbiamo parlato proprio della sindrome del pizzaiolo, no, che fai le pizze tutti i giorni e poi quando devi mangiare una pizza magari c'è un po' di conflittualità con la cosa. E sì, sicuramente ma ci stanno sì, un sacco di testimonianza. Poi per loro è proprio un lavoro ed è caricaturale. Questa è la cosa più importante. Sono dei personaggi. Sì, prima dicevi del fatto delle urla, no? Cioè trovi una e ti fa così casino, io mi spavento e ti dico tutto a posto. Ma mentre sei a casa con i tuoi. Sì. Vabbè, molti ragazzini iniziano così, non è che dici, la prima fidanzatina, cose. Questa ha visto tutto il porno nella sua vita, questa urlava come una matta. Ha detto, boh, magari per piacere il mio compagno, il mio fidanzatino dovevo urlare come una matta. Arriva la madre e pensa che sia successo qualcosa e li trova incastrati. Non è proprio il massimo. Oppure ti fa strano proprio che quando fai le prime esperienze sessuali, dopo aver guardato i video e tutto quanto, dici, non è così. Dici, forse c'è qualcosa che non va, ma in realtà è semplicemente che è una cosa distaccata. Appunto sul discorso di Anzimare tu magari ti aspetti da maschio che la ragazza faccia super casino. E poi per carità di Dio ci sono situazioni, momenti che magari ti portano ad arrivare a carità di Dio, ma non è totalmente da quando lo metti sempre così. Sì, sì. Sì, vabbè, basta parlare di urlare. No. No. Guardi porno? Sì. E che categoria guardi? Mi piacciono le tipe. Ok. No, ma questa è una cosa che ha super senso ricollegandomi a quello che hai detto prima, no? Hai detto, il porno è incentrato tutto sull'uomo e non è affatto... No, non credo che sia per questo, però... Ok, perché... perché a te piacciono anche le tipe? Sì. Ok. È subisessuale, quindi credo che sia... Chiaro, sorry. Ma poi perché le vedo più... Allora, ieri ho fatto un discorso con un mio amico che mi ha detto una cosa che mi ha lasciato un po' così, no? Perché mi ha detto... No, perché... No, non era un mio amico, ora mi sapevo, ci chiediamo perché dobbiamo mettere le parentesi. E mi stava dicendo che tipo, secondo lui, una ragazza non potrebbe mai fargli una sega nel modo adeguato, come potrebbe piacere a lui, come lui sa toccarsi il suo... il suo cosa, no? E che magari un uomo potrebbe arrivare a fargliela meglio di qualsiasi donna nel mondo. E io ho detto, allora vedi che quando io dico che una donna sa toccarmi meglio di un uomo ha senso la cosa, perché alla fine ce l'ha pure lei, sa che certe cose non vanno fatte e quindi non le fa. E quindi mi ha fatto riflettere un botto. Sono entrata in questo trip assurdo di stare a pensare a sta cosa per un'ora. Però sì, ha molto senso. È anche una cosa scientifica, per esempio, se prendiamo le donne omosessuali, sono in generale il tipo di popolazione che ha più soddisfazione sessuale e meno... Non ho capito, scusami, là? Le donne omosessuali sono il tipo di popolazione che hanno meno gap orgasmico, nel senso che non c'è differenza... Sa come mai? Cioè c'è meno differenza tra una persona e l'altra che prova l'orgasmo. Solitamente la dimensione aterosessuale è più facile, l'uomo venga, la donna no. Molto spesso. Mentre le donne... Peraltro sai che è la cosa che mi fa imbestellire? Che poi, per carità di Dio, può capitare eiaculazione precoce, ansia da prestazione, tutto quello che cazzo vi pare, eh? Però dopo, pure se finisci devi dedicar, dici questo... Eh sì, ma no, ma scusami, almeno impegnati un minimo. Le trovi d'accordissimo. Te pulisci al volo, te dà una... Eh, fresco, fresco al volo e dici, amore, adesso ci occupiamo di te? Sì, sì, questa è la cosa più giusta del mondo. Cioè è anche assurdo doverlo dire, capito? O doverlo anche solo pensare, cioè dovrebbe essere in automatico. Cioè se io vengo e mi levo, come reagisce? Sì, sì, sarebbe... L'ho fatto un paio di volte, eh? Hai fatto tipo il test, dici... Non è stata carina. Sì, sì, ma te levi, non ho bisogno di prendere aria. Non si sono presi bene? Eh, te credo. Però vedi che quando lo fai al contrario non è bello? E che cazzo però, cioè nel senso un minimo, dare per avere, dare per venire soprattutto. Assolutamente. E venire per venire, è giusto. È giusto, è giustissimo, mi trovi in strada d'accordo con questa cosa. E poi si può pure pensare, ma l'uomo, perché sicuramente, cioè, sarà opinata questa cosa, perché uno dice, l'uomo perde le energie nel momento in cui finisce. Frate, se devi usare... Vabbè, io che devo fare? C'ho le pile io? Sì, no, capito, ma poi... Le donne hanno le pile, non lo sapevo io. Ah, perché magari si può pensare che la donna dopo un orgasmo non ci abbia la stessa scesa dell'uomo. Però... Vabbè, perché che scesa c'avete? No, è diciamo un discorso... Bella pesa, cioè che... Sì, 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 abbastanza pesantina, però... Vabbè, devi stare un attimo sdraiata a letto, con la tipa a fianco le devi dare un attimo di attenzioni. Sì, esattamente. Non è che devi fare le capriole. Sì, sì, non è che devi guadagnare subito un'erezione o qualcosa. Basta le dita, basta una lingua, sei a posto, hai risorto la questione. Cioè, nel senso, non è che devi... Vuoi un po' d'acqua? No, in realtà sono quattro giorni, tre o quattro? Tre. Zinchiozzo? Sì. L'hai provato tutti i metodi quelli classici? Non lo so. Ci sta lavorando, comunque. Vabbè, scusate, però... No, 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 il singhiozzo è un topic da cui sono sempre stato incuriosito. C'è mia nonna che fa tutta una tecnica strana, un rituale... E se ne va? Sì, se ne va, però non l'ho mai... Mi sembrano quelle cose tipo da... Mia nonna lo faceva tipo col filo rosso. Ah, no, non sono arrivato a sti livelli. Il filo rosso lo devi mettere qua e poi tipo trattenere il fiato. Ok. Guardando tipo il filo rosso, cercando di guardare il filo rosso. Vabbè, che trip. Ok. Su Instagram Est ha messo un boxino e ti hanno fatto un po' di domandine. Mo le selezionavo perché ho visto già delle cose un po' mattacchione. La prima è come fai ad essere così divina? Non so come rispondere. Ok, perfetto. Sono me stessa, non lo so. Un'altra, di questa sono curiosa della tua risposta. Come ci si dimentica di un tipo? Allora, inizialmente devi capire se è solo per una questione di ossessione. E se sei ossessionata, allora quello è il principale punto. Perché, boh, guarda, io non so neanche se sono la persona più indicata a darti proprio questo consiglio. Perché ho avuto le mie fisse, poi sono passate. Ma sono passate da sé perché cerchi di viverti la vita. Cioè, il mondo è pieno di pesci, raga. Sì, ma una cosa che è utile sempre fare... Cioè, non chiudetevi in voi stessi a casa, a devri, a piangere. No, quello non funziona. Quello è solo peggio. E non vi mettete a fare stalker. Quello non aiuta. Dirò una cosa che secondo me è molto importante. Le persone non vanno dimenticate. Bisogna elaborare che magari quella storia non c'è più. Ma più che altro capire se è veramente quello che vuoi. Perché se alla fine stai rincorrendo una persona che non ha i tuoi stessi valori, non ha i tuoi stessi principi, non potete costruire niente sulla base di niente, quindi stai cercando di portare avanti qualcosa solo perché vuoi avere la rivincita per poi dire, ah, ti ho mollato io, magari. Sì. È solo perdita di tempo, secondo me. Sì, c'è quella cosa importantissima che spesso ci preoccupiamo troppo di piacere all'altro e non ci chiediamo se l'altro ci piace. Veramente. E se quella persona... Ma se ci piace veramente, non solo fuori. Cioè, se ci piace tutto di lui. Anche perché per stacca una persona magari bastasse solo l'estetica. Sarebbe tutto un po' più... Invece è un bucio di culo che finisce più. Poi. Così. Chiusa parentesi. Mi chiedono quando un album. Eh, me lo chiedono tutti. Arriverà. 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 Vediamo un po'. Ah, vabbè. Quest'anno fatta in 18. Faresti OnlyFans? Ti apriresti un OnlyFans? Non lo so. Vorresti un OnlyFans? E questa è la domanda da fare a sto punto. Perché se te l'hanno chiesto in 18 a sto punto mi sa che lo vogliono. Capiamo sta cosa. Beh, capiamo prima sta cosa e poi valutiamo a sto punto. Facciamo un bel business plan e vediamo un po'. Pure sull'altro. Dobbiamo pure sull'altra cosa però, eh. Prima quello però, secondo me. Poi scoprirete. Sì, sì, sì. La scoprirete perché non la possiamo dire. No. Non ancora. Qual è il massimo di volte che hai fatto sesso in un giorno? Questa la dico così. Allora, non è semplice perché se non è la... Cioè, io sono una persona molto mentale. Quindi se vado a finire a scoprire... Cioè, se scopo poi con una persona e poi vedo che non c'è quell'affinità che stavo cercando io scopriamo una volta, vengo una volta, se riesco ovviamente. Se lui dopo ci si dedica. O se non viene prima di me, ovviamente. È così. Se invece c'è tutto quello che voglio, è... 9, 10. Chiaro. Questo sottolinea quanto sia importante l'aspetto mentale. No, è solo quello. Sì. Cioè, è solo quello. Mi trovi d'accordissimo. È solo quello. Perché uno pensa sempre al fattore estetico, performativo. ci stanno studi su studi e dimostrano la soddisfazione sessuale. Dipende dalla soddisfazione relazionale. Non vuol dire che uno deve stare a dieci anni con una persona, ma anche che nella relazione con l'altro, che può essere anche non un partner, fidanzato, relazione seria, eccetera, ma una persona con cui relazionalmente le trovi bene. Pure un amico. Quello che ti pare. Quindi strago un cordo e ci sta. Sì. Poi se i primi periodi magari nella relazione lo fai 75 volte al giorno, perdi quei 23 chili con quella roba l'altro. Con tutto quel cardio. Ti senti soddisfatta dal tuo percorso? Sì. Ci sono tante sfaccettature che ovviamente sto cercando di smussare, mitigare per quelle che e poi cercare di compensare il mio essere vero, la mia vita vera con quello che è poi il mio lavoro che poi di base principalmente sono dei riflettori. Quindi sì. Sinceramente sì. Sto bene, sono felice. Chi ha sciadia fuori dai microfoni? Raccontami un po'. Cioè tipo tua giornata tipo? Principalmente nella casalinga ti dico la verità. Fa quasi pure ridere. Però mi sveglio, cioè mi sveglia il mio gatto. Gli do da mangiare, mi vado a lavare i denti, latte macchiato, inizio a pulire, buon gioio, faccio quello... Dopo ti farò le domande sul buon gioio e buona gioia. Apriremo un bel una bella parentesi. Poi faccio le mie cose di lavoro, magari se devo andare in studio, se devo fare delle interviste, se devo vedere la mia stylist, se devo creare dei contenuti. Poi magari dipende, passo delle serate con gli amici. Però di base mi piace pulire, cioè mi appaga vedere casa mia pulita. Ok, quindi ci tieni a vivere in un ambiente che... Sì, perché se poi è disordinato è disordinata anche la mia mente, quindi non so mai da dove... Cioè, se la casa non è pulita io non riesco a fare nient'altro. Cioè, deve prima partire dalla casa. Chiaro. Curioso. Curioso. A proposito di buon Giorgio e buona Giorge? Sì. Ok, ok. L'ho preso entrambi. Che sono praticamente delle... Rivisitazione del buongiorno e buonanotte. Esatto. Tue foto, un po' così? Mie foto. Due foto, due foto artistiche. L'arte non è per tutti però, sono artistiche, sono artistiche. Sono artistiche. E le apprezzano. Eh no, infatti, tu c'hai proprio sta routine e dici buongiorno e una volta mi hai spiegato che ti serve per sentirti bene con te stessa. Allora, una bella foto mezza nuda la mattina mi toglie l'ansia e la depressione. Cioè, proprio, non lo so, mi fa sentire meglio con me stessa perché il vedermi bene, preparata, bella, mi fa sentire bene con me stessa e poi soprattutto il buon Giorgio è nato di base perché volevo avere qualcosa di mio direttamente solo con i miei fan. Cioè, qualcosa che non poteva essere copiato o se veniva copiato. Era prima tua. Esatto. È una cosa mia tra di loro e poi mi diverte. Poi è una cosa che mi fa sentire bene con me stessa. ne ben vedi. Cioè, sono una persona che comunque gli piace vestirsi molto appariscente. Chiaro. Quindi, è bella sta cosa. Io sono pro... Cioè, per esempio, ci stanno le persone che magari mandano il nudino. Non so se a te... Io non riesco. Ok. Ok. Mi hai foto nuda, totale, che tu mai. Mai hai fatto nella vita. Chiaro, però ci stanno tante persone che magari la foto sozzetta se la fanno solo ed esclusivamente se devono scambiare con l'altro. E la cosa di farsi la foto sozzetta perché in quel momento ti piaci o perché è proprio una rutina secondo me è una cosa fighissima. Allora, su quello ci sta, però io non riesco proprio. A parte il fatto che ho sempre paura che le persone possano usarle contro di me perché la gente è cattiva. Ma fin da piccola questo, cioè, non ho mai voluto... Magari è capitato con qualche ragazzo magari nell'ultimo periodo adesso che ci sono quella roba del fai la foto che si cancella subito e se provo a fare lo screen Whatsapp te lo blocca. Non so se mi hai provato a fare uno screen delle foto inviate... No, mai, però so che... E ti esce la schermata che te lo blocca proprio. Ok. Io ho provato a fare uno screen di una roba che mi serviva che mi è stata mandata lì per sbaglio e mi è uscito bloccato. E questa è una roba che già mi fa sentire un po' più sicura, capito? Eh, cazzo, sì. Dall'altra parte neanche le videochiamate sexy. No, perché uno fa registrazione schermo e so cazzi. No, no, no. Se vuoi ci vediamo. No, no, c'è assolutamente senso. Riferisco che ci viviamo la roba a pelle a pelle che quella roba a tele... No, molla. Io mi sono sempre cagato sotto da quando ho cominciato a avere un minimo di esposizione e non so assolutamente famoso però magari qualche follower capita che magari... No, ma poi la gente è cattiva. Magari solo per farti così, per ferirti così lo fa. O si dice magari se faccio questo io magari divento famoso magari c'è altra gente repressa come me che la pensa come... No, fra... No, è cattivo. Sì. Ci stanno maschi che se la vivono come... Eh, se pubblicano la roba mia mi fanno pubblicità però non so quanto quanto si possa vivere così serenamente. sono stati mezzi sputtanati perché mandavano le foto del loro membro e non... Sì. Che poi, cioè nel senso se tu stai a mandare stai a fare sexting con una persona... Che non voleva la foto del tuo cazzo principalmente. Partiamo da questo magari. No, vabbè. Se non voleva la foto del cazzo è un conto però se quella persona è consensiente ci stai a fare sexting e quella persona è sputtana. Perché gli devi rompere i coglioni? Cioè... Questo è da stupidi. Sì. E se stai a fare sexting sei una cogliona sei in cerca di hype. Sì, sì, sì che devi... Dici che sputtani. Se senza motivo come capita a me ti arrivano così c'è tipo... Infatti tavolo via di questa cosa. Sì, sì. Un sacco. delle volte ho anche paura ad aprire le loro foto perché magari sono a cena sono con delle persone e apre una foto e c'è un... No. Magari una volta un culo ogni tanto. Sono cazzi. Sono cazzi. Vabbè. Magari se volete rimediare. Shadia chiede chiappe. Sì. Non cazzi. Shadia chiede chiappe. Magari tutti i ragazzi adesso iniziano a mandarmi le foto dei loro culi. Hai sbancato con sta frase. Quindi c'è cosa che ovviamente non è una cosa che ti piace ricevere la foto della... Secondo me è una cosa stramolesta. Cioè come se stai... Se te la chiedo sì cioè nel senso non... La cosa che non vogliono capire loro è che non è che se mi fai vedere che c'è un cazzo dei 70.000 centimetri e ti dico ah bella frate ti mando la via di casa mia e ti dico vieni. Sì, sì. Ma soprattutto il cazzo così senza contesto ma anche a figa te lo dico pesca tra i due sincera preferirei la seconda però Ok, io pure però è un discorso se ti arriva solo la patong tu c'hai quella cosa e dici ok ma il contesto dov'è la parte dell'eccitazione prima dov'è tutto non è anche qualche messaggino carino prima c'è solo quella decontestualizzata non c'è la cosa che magari prima ti crea l'atmosfera e roba simile cioè e poi soprattutto è molesto cioè prima di tutto questo ovviamente è una cosa molesta perché non c'è il consenso di una persona e poi come dico spesso mandare le foto del cazzo con tutta questa facilità inflazione le foto del cazzo perché se uno poi manda la foto del cazzo dici ne arrivano tante è normale la foto del cazzo invece la foto del cazzo va guadagnata è normale io ho detto cazzo assolutamente cioè è normale nel senso è molto frequente ma su questo straconcordo cioè mandare la foto del cazzo senza che ci sia una richiesta di nudino o comunque un'atmosfera di sexting non va bene ma più che altro ci stiamo sentendo vogliamo rendere la cosa un po' più eccitante ah tipo siamo lontani non possiamo vederci ancora ancora ma te l'ho chiesto non so chi sei sì sì no ma a caso nei DM e che fai solitamente li blocchi ma io rispondo non faccio niente non accetti la richiesta e via tanto grazie a Dio posso vedere le foto prima di accettare o rispondere o fare qualsiasi cosa cioè tanto alla fine le rispondi le dai corde e quindi magari va a finire altro e quindi pensa oddio mi sta rispondendo perché no non ti blocco perché sennò ti credi comunque importante quindi niente va bene va bene no dicevo io mi sono sempre sentito impanicato da quando ho cominciato ad avere un minimo di esposizione che magari poteva capitare che succeda qualcosa mi sono sempre stracacato sotto e faccio le big premesse cioè foto istantanea con la bombetta se proprio doveva essere con la bombetta con la bombetta la magica bombetta che tra l'altro anche là se facevi screen te lo diceva quindi potevi comunque insultarla però là se ti fa lo screen te lo dice io poi ti deficiente sai che c'è la cosa che mi faceva venire anche sempre l'ansia magari non fa lo screen ma tu gliela mandi che si può vedere una volta e lui fa la foto o il video con l'altro telefono sì 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 io c'ho mille ansie su questo no ma fai benissimo mille mille cioè proprio preferisco no cioè nel senso è una cosa che se piace si può assolutamente fa non c'è niente di male ma bisogna il mio ragazzo che stiamo insieme da che mi fido no ormai non mi fido più di nessuno cioè è brutto da dire ma no ma pure pure quei partner cioè io so della wave che il volto anche la meglio evitare sì il volto almeno il volto una volta che vi lasciate lui magari se gira no 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 se li devo fare li faccio col mio ci lasciamo li elimino almeno sei sicuro che li elimino anche perché una donna non si metterebbe mai a fare io che mi metto a minacciare il mio ex perché amo pubblico i nostri immagini lui si sentirebbe super gasato secondo me però sì non capita mai al contrario purtroppo e quindi sto discorso no delle foto ma in generale il fatto che magari tu sei super serena col fatto di mostrare il tuo corpo che è una cosa super ok super sana cioè non ti ha mai fatto sentire oggettificato o comunque come te lo vivi sto fatto e magari ti rompono il cazzo non so se magari ti offendono ti senti oggettificato nel momento in cui ti ci vuoi sentire cioè io lo faccio perché mi fa nessuno mi obbliga e mi dice ah tu devi no a parte d'altro che nel momento in cui uno mi dice devi farlo è finita è proprio finita lo faccio perché mi fa sentire bene cioè come ti dicevo prima non faccio sexting non faccio mille altre robe però oh mi piace che mi facciano i complimenti magari mi fa sentire bene con me stessa che è una brutta cosa no 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 dico in generale cioè nel senso non credo che ci sia niente di male sì sì anzi la cosa che mi fa l'unica cosa che mi dà veramente fastidio è magari quando le altre ragazze ti insultano però sinceramente le mie fan sono tutte pazzesche quindi ricevo solo complimenti da loro e tipo ti è capitato che qualcuno ti insultasse le altre ragazze come te la sei vissuta? sinceramente dispiaciuta perché per andare a spendere il tuo tempo a insultare una tipa su instagram devi ma te dico la gente ci sguazza proprio dentro sta cosa io ultimamente io non c'ho tempo da perdere come cazzo fate a stare a perdere il vostro tempo prezioso perché ce l'hanno da perde perché ce l'hanno da perde è una questione di priorità a volte esprime la propria invidia il proprio dissenso fai qualcosa per te stesso migliora semplicemente la tua intuito fai qualcosa per te stesso mi trovi d'accordissimo però a volte fa gola il fatto di andare sotto al video alla foto della persona lasciare l'insultino e sperare che la persona che ha pubblicato la foto e il video la guardi e dico che male al cuore che mi hai fatto io tantissime volte non rispondo però mi diverto un sacco a leggere i commenti che fa guè sotto i suoi insulti ah sì 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 lui maestro totale maestro totale ti prego capo dei capi cioè incredibile lui ha creato proprio sto vibe in forma cioè per me è un format il suo infatti tantissime volte vado a cercare proprio gli insulti per vedere come è risposto perché fanno proprio tagliare da ridere ma poi è serenissimo sì super sereno sembra che gli sta dicendo una cosa super bellissima che grande poi c'è sempre ricordarsi che gli haters sono i primi fan soprattutto sono sistematici sono quelli che danno più engagement non mettono il like avevano fatto una roba sempre se non sbaglio con guè che gli avevano presentato il suo primo cioè il suo il suo più grande haters che alla fine si era rivelato il suo più grande fan ah sì sì molto probabile molto probabile quindi alla fine io li amo tutti sì io li ringrazio perché a parte il suo commenti i commenti tipicamente alzano l'engagement e poi giusto guardiamo sempre il bicchiere mezzo pieno sì e poi ci stanno certi certi non mi rinculo ma altri che magari dicono quelle cose talmente tanto che mi rinculo li guardo e faccio adesso farò una storia o un video in cui gli rispondi faccio un culo così e quello è altro engagement quindi vanno ringraziati quello sì più che altro poi ti diverti perché cioè poi ti ci metti pure a risponderli e poi quando stanno lì e loro ascoltano la tua risposta e non sanno più che risponderti è anche così soddisfacente perché dici ah che bel lavoro che ho fatto sì io parlo spesso di monogamia non monogamia e tutte queste cose qui ma non lo faccio in senso denigratorio dico semplicemente questa è una cosa questa è un'altra esiste questa cosa qui e solitamente mi fanno commenti tipo eh no ma è roba fatto che poi sono le cose classiche che dicono le persone non monogame e dicono eh no io non so come farei oppure è solo un modo di allontanarsi dalle responsabilità ce ne hai delle responsabilità se una persona non monogama ci hanno sempre da cacca l'altro giorno uno mi ha detto ma che visuale è ma che vuol dire ci stavo anche pensando ma che vuol dire veramente la cosa che tu dici oppure parlo spesso di tradimento sul tradimento sbroccano magari gli citi tre studi sbroccano gli citi tre studi infatti io quando guardo le tue storie mi taglio perché mi metto lì e le guardo e le ascolto e mi taglio proprio soprattutto quelle ribadisco quelle sul le esperienze bruttine le esperienze bruttine sono la mia cioè mi diverto veramente un sacco ecco te sei fatta i cazzi tuoi una tua esperienza bruttina anzi voglio almeno due Shadia non ne ha ma in realtà non ti è mai successa una cosa che ti ha un minimo imbarazzato che hai detto la scrivo sulla rubrica allora questa questo fa capire quanto sono matta però ero convinta di essermi scopata un ragazzo e me ne era scopata un altro ma proprio convinta c'è roba che ho scritto a sto tipo mi fa guarda che sei andata a casa con il mio amico bellissima bellissima li faccio ah scusami e come è successo cioè ti va a dire un po' il contesto non si può dire ma no eravamo a ballare eravamo tutti insieme una cosa tira l'altra tutta la sera io sono rimasta cioè praticamente stavo con questo quindi non credevo che me ne fossi tornata col tipo 1 col tipo 1 a quello che ho scritto il giorno dopo quindi non credevo me ne fossi tornata col tipo 2 e alla fine invece sono tornata col tipo 2 solo che metteci un sacco di alcol divertimento robe il buio quando sono tornata a casa e e il tipo 1 tu lo sei mai scopata? no che rosicata per lui? no no dico per te che magari ti volevi scopare quello e ti scopare un altro no tanto alla fine mi sa che non me lo sarei ricordato nessuno dei due casi perfetto quindi dici apposta che matta e ne valsa la pena per il tipo 2? cioè ti è piaciuto il tipo 2? ma se ho scritto il tipo 1 per tipo cercarlo vuol dire che alla fine è stata una giocata sì sì solo che poi mi è dispiaciuto solo aver scritto all'altro era stata questa la mezza gaffe se erano veramente amici non gliel'ha detto perché non gliel'ha detto? cioè il tipo 1 non l'ha detto al tipo 2 guarda che Shadia mi ha scritto secondo me gliel'ha detto io non lo direi tipo se dovesse succedere a un mio amico voi lo direste? dipende che amico forse sì cioè se è un amico stretto non gli vai a dire oh ma ha scritto quella che ti sei bombato perché in realtà pensavo ad essere bombato cioè sarebbe una cosa bruttissima quello va in terapia a 10 anni io lo diresti? no gliel'ho diresti? così per distruggerlo te sta sul cazzo io non ce la farei lì eh sì è un po' da stronzo e poi che fai lo chiami? guarda te volevo dire che ieri sera tu sì ti sei scopato Shadia però in realtà io lo scopo sì capito sto tipo volando questa in realtà è l'unica esperienza che poi mi sono creata da sola poi basta no grazie a Dio sulla sessualità sono sempre cercata di andare su cose che veramente mi piacevano qui non ti è mai successo la roba che dici sei mai caduta dal letto cose così? no la signora Shadia è piocatrice? no scopavamo direttamente per terra ah ok se caschi dici non la prendi come una cosa imbarazzante te fermi no improvvisi e dici no perché volevo continuare per terra volevo fare l'acrobata ok oggi contorsionista allora adesso arriva una parte bruttina anzi continua la parte bruttina di facciamolo e ti faccio le domandine infamine prima hai detto che non ti piace il sexting però ti è mai capitato di mandare un nudino a una persona sbagliata? cioè che tipo lo volevi mandare anche un buongiorgio privato? no i buongiorgio sono solo dei miei fan ok perfetto sono fedele non li tradiresti mai con uno solo no ok perfetto nella così fa ridere però dimenticato il nome di qualcuno portato a casa hai già risposto prima sì 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 tieni una nota col body count no ok ok c'è anche pensato un attimo ma no dovrei? no cioè se mi hanno fatto sta domanda vuol dire che no 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 te lo stai facendo tu sì sì so domande mia ce l'hai? ce l'ho avuta poi una certa ho detto ma perché? non so era così goliardico mi fate morire sì sì addirittura una sera mi era successo che c'era una mia amica fissata coi segni adoro e io mi sono messo lì col body count di ok questa era pesci questa era ariete questa era ah proprio così? ho scoperto ho scoperto che mi mancava erano tutte connesse? sì allora a parte c'era una quantità di pesci cancro e scorpione tutti i segni d'acqua ho detto come cazzo adesso devo cominciare a studiare astrologia perché è vero cioè non è possibile eri affascinato da quello? sì no era assurdo tutti i segni d'acqua e poi ho scoperto che nonostante ci fosse comunque un numero abbastanza considerevole mi mancava un segno e manco mi ricordo quello che era e non c'ho più l'audito basta basta ho rosicato dato il numero sbagliato di proposito sì 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 è capitato magari quello vecchio perché non riesco a essere cattivo quindi ti do magari quello vecchio quello vecchio che vedi comunque l'immagine del profilo bravo non voglio essere così cattiva capito poi magari se mi scrivono su instagram gli rispondo dopo un sacco gli dico ah non ho preso il telefono cambiato numero ah ok hai perso il telefono ok ok cambiato numero però non essere cattiva non mi piace essere così cattiva ci sta ci sta fa sentire un colpo fatto nel bagno nella discoteca mai ce la farei mai ristoranti stellati sì però nel bagno nel ristorante stellati nei ristoranti tipo quelli un po' più pettinati un po' più sì stavi da cracco in galleria hai detto aspetta vado un attimo bagno do una pasta al sugo di 40 euro almeno sei sicuro che il bagno è pulito perché là il bagno è pulito hit hit andrò a mangiare penso l'antipasto a un ristorante stellato solo per farmi una scopata che posso dirti che il fatto di essere mezzo peccati è eccitante ok ti piace ti piace il pericolo il brividino tu dici ti piace ok fatto la cacca dopo la prima notte insieme si si ok quindi te la vivi super easy no io faccio sempre sta domanda metto la musica e spruzzo d'adorante ok chiaro no io c'ho sempre fumo ok perfetto ritico perfetto entra e sente fumo prima di uscire aicos che già quella buzza di merda perfetto e esci con l'aicos tipo vuoi un po' così la fai notare bravo e dici guarda sto fumando ti giuro che è l'angos no io sta domanda la faccio sempre perché secondo me è fondamentale sdoganare il concetto cacca soprattutto nel mondo femminile che le donne non fanno una cacca tutta quella roba lì no guarda sincera non mi interessa da poco diciamo che ho iniziato a frequentare frequentare troppo impegnativo vedo con uno se no troppo impegnativo vabbè hai capito c'è qualcosina c'è qual eravamo in hotel e c'era tipo l'hotel però con il bagno del merda con le porte l'ho lasciata direttamente aperta ok e lui stava là beh allora te ce stai a frequentare secondo me non te ce stai a frequentare sei i cagli con la porta aperta ma no ma perché no è perché abbiamo confidenza cioè abbiamo fatto di tutto e di più cioè adesso non è che guarda abbiamo fatto quello l'altra sera mo te becchio che cago che la porta beh ci sta ci sta secondo me buona filosofia poi eravamo appena tornati da un presento alcolico quindi ti dirò dovevo andare in bagno che cavolo è giusto e dormito durante l'atto sono mezza narcolettica quindi mi capita cioè magari siamo sono ubriaca ti porto a casa con me tu sei convinto di e invece si fanno le ninne di brutto ma che tu proprio musica urla ninne morta k.o.totale quanti ragazzi si sono mangiati le mani ma pensa che figata cioè ci saranno magari persone che dicono no io con Shadia me ci sono visto ci sono frequentato e altre persone io con Shadia l'ho portata a dormire a casa sua secondo me non ha detto così come ha detto che comunque c'è stato ah ok ok dici non c'è la persona io sono stato uno di quei che vanno dai amici io ho dormito dubito sincera dubito fortemente che te sei addormentata e il giorno dopo sei svegliata con quello e sei addormentata con te cioè che tipo l'ha accettato ha detto ok Shadia dorme dormo anch'io si si vabbè se sei rimasto là ha fatto pure bene perché poi quando mi sveglio c'ho ah ok quindi ha fatto un investimento dice Shadia si è messo a dormire metto a dormire anch'io ti conviene secondo me ok perfetto cioè io non abbandonerei proprio la nave tutto mezzo incazzato consiglio per i posteri eh però ok non sta mai non sta mai qui c'è fatto da fatto apriremo un discorso che faccio spesso su facciamolo ogni tanto è anche criticato perché la gente quando si parla di droghe si triggera un po' ci sta però noi parliamo a scopo semplicemente informativo non che non è una una promozione ma è semplicemente parlare magari di esperienze che si sono fatte che droga ti piace annettere al sesso cioè tipo scopare la fatta che ti sei fatta una canna ti piace come te la vivi vabbè io penso che abbia già sdoganato cioè io fumo fumare cioè fumo vabbè non è detto perché magari ci sono persone che fumano un sacco però non lo dicono no ci sono tantissimi artisti che fumano e non lo dicono però anche quella è una parte di me quindi secondo me nasconderlo non ha senso cioè nel senso io poi ribadisco io non so che mi seguono anche tantissimi ragazzini e io ho sempre detto cioè non provate le cose per fare i fighi io l'ho fatto da piccola e no cioè dopo ti senti anche stupida poi crescendo magari nel momento in sé no però poi crescendo dici cavolo io ho iniziato perché volevo fare la figa con quello con quello non ha senso io ormai fumo da tantissimo cioè mi piace anche mi aiuta anche con la mia creatività quindi sinceramente quello di base chiaro chiaro poi nel sesso è una cosa che riesci a fumare e fa sesso è una cosa che io fumo sempre quindi in realtà è come se ok no te lo dico perché ci stanno magari ci sono persone che non riescono no so che non riescono io per esempio se mi facessero una canna pensavo a sì 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 è perché ti devi perché ovviamente ti le canne sono molto direzionali no cioè nel senso ti fissi su una cosa su massimo due se riesci proprio a essere multitasking o tre ovviamente se è un lavoro che devi fare più robe però di base è una roba cioè unidirezionale c'è nel senso va solo verso quel lato lì quindi ovviamente magari per una persona che ha l'attenzione un po' così diciamo che fumare prima dell'atto sessuale non è il massimo ecco sì sì infatti a me distraeva totalmente quindi meglio di no certamente oh ma sto a scopare davvero ok provavo a riconcentrarmi in modo molto fallito adesso mi è ricordato che ho visto tipo un video su tiktok tipo della gente che dice quando stai guidando e ti ricordi che stai guidando sì sì più o meno così sì sì più o meno così tipo che stai scopando e dici ah sto scopando ok fa anche ridere come cosa in realtà sì sì molto io ho finito le patatine e senti una domanda brutta che fanno in tanti però ultimamente sei un po' carica ti vedo anche su instagram che stai tenendo un bel po' di hype hai droppato ma un singolo che progetti c'hai in futuro che vuoi fare un pochino artisticamente se ti va di rispondere sicuramente tanta musica quella è proprio la base poi ci saranno tantissime tantissimi progetti annessi però un sacco di musica bene quindi la signora la signorina anzi la non signora la non signora Shadia sta carichissimo super carica sì 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 quindi ne vedrete delle belle e senti ti va di lasciare un messaggio sulle relazioni sul sesso facciamolo parlate comunicate e siete voi stessi perché tutto il resto è già stato preso io lo dico sempre non cercate di voler essere altri solo per piacere alle persone che vi circondano soprattutto nel sesso se non vi piace ditelo magari trovate un compromesso e magari piacerà pure a te mi trovi d'accordissimo soprattutto il fatto di essere cioè di cercare una dimensione personale nel sesso è una cosa molto importante perché è un qualcosa che riesce anche a distogliere dal concetto di essere bravi a letto dover piacere a letto avere quelle fisse ma poi non esiste essere bravi o non essere bravi a letto non ho mai capito a sta cosa sì sì cioè essere bravi a letto può essere bravo con una persona può essere una merda totale con un'altra appena te ci conosci è ovviamente sempre perché è legato alla cosa mentale cioè nel senso ci deve essere l'affiatamento l'emozione se no e poi è relativo sempre a ogni coppia cioè pure il fatto di confrontare con gli ex è una cosa che penso dopo i 16 anni ti passa non a tutti non a tutti sì però se c'hai un minimo di anche di vissuto sessuale tra virgolette maturo è una cosa che anche perché capisci che non è un confronto che puoi fare no il senso è qualcosa che è molto più olistico molto più omogeneo rispetto alla divisione del sesso orale sesso manuale ecc ecc quindi è una cosa bellissima e cercare la propria sessualità la propria espressione sessuale è una cosa importante sì state da soli guardatevi capite quello che vi piace non vi piace è sempre quella la cosa come ha aiutato sì pure a me pure a me è un sacco cioè capire come un po' il discorso di prima anche cercare di uscire all'ottica di piacere all'altro perché poi diventa diventa una cosa eccessivamente altruistica e tu stai non stai a scopare la stessa beneficenza perché stai lì a cercare di compiare l'altro quando invece devi capire che cosa vuoi e che cosa non vuoi dal sesso e cercare il più possibile e soprattutto come hai detto prima se ti piace sì sì se ti piace quella è la cosa più importante sì che e là devi anche essere pronto a destrutturare determinate cose perché magari idealizzi una persona poi in realtà adesso a pensare non è semplice capire se ti piace una persona non è semplice per quello non vi fidanzate in fretta non andate a convivere con calma raga conoscetevi ma dico devo ruttare scusate vai vai rutta conoscetevi veramente cioè nel senso non affiate sì che non è che non è una cosa facile soprattutto se parli magari di convivenza sono fasi stradiverse della relazione a me è capitato perché ho saltato quelle fasi là e sono andata magari direttamente a convivere e non è stato proprio il massimo quindi per quello lo dico cioè nel senso capite se vi piace veramente una persona sì i valori i principi sono allineati perché si parla tanto di amore ma non si parla mai dell'essere compatibili compatibili sui progetti futuri perché principalmente per avere una sana convivenza è quello e io vedo anche solo i miei genitori i miei genitori sono sposati da più di 50 anni però sono nati e cresciuti in un paese diverso hanno una religione e una mentalità diversa quindi loro prima si sposavano per il fine di sposarsi e fare figli adesso invece è molto più complicato vedi persone che si sposano e dopo neanche un anno due anni si separano e lasciano i figli quasi in balia quindi cercate di capire se i progetti la mentalità è tutto veramente a fine perché se no perdete solo tempo sono state singole scopate mi trovi d'accordo mi trovi d'accordo no ma poi c'è il fatto che si pensa che l'amore risolva tutto ma andi avanti le relazioni magari bastasse l'amore io vedo che tante volte rende solo stupidi sì nel senso perché inizi a dare solo all'altro e non guardi mai se l'altro da te o se quello che da te è quello che veramente ti meriti quindi non guardi più le cose razionalmente sì perché c'è proprio il concetto di amore incondizionato nelle relazioni le relazioni adulte non sono incondizionate sono condizionate sì sì capito oppure un amore genitoriale ma il pischello tuo quella è la Warner Bros però vabbè capito comunque vabbè sempre fiabe sono sempre fiabe e quindi c'è c'è sta cosa l'amore incondizionato un par di cazzi c'è le relazioni adulte sono stracondizionate e c'è quasi un lavoro stavo per bestia a meno il lavoro a meno il lavoro ti pagano sì capito pure il lavoro gratis un bucio di culo non volevo offendere tutte le relazioni del mondo con questa frase no no mi trovi quasi d'accordo mi trovi quasi d'accordo è tosta è veramente tosta cercare di poi arrivare al momento in cui capisci che in cui capisci che è effettivamente un impegno costante no c'è il concetto lì l'innamoramento è facile stai innamorato stai innamorato ma quello dopo sei mesi si trovi 17 volte al giorno non c'hai occhi per altre persone sei lì così fissatissimo e poi si dice che l'amore è il fuoco cioè la brace che rimane quando il fuoco si spegne e lo devi alimentare dico come a Pasquetta che ci sventoli sopra eccetera eccetera quindi è così belle fiab avranno inventato a Pasquetta questa frase no ti giuro no la cosa di Pasquetta ce l'ho aggiunta io però c'è stava non c'è stava probabilmente sto ancora in engover da Pasquetta però sta roba non mi ricordo chi l'ha detta ma credo sia una metafora abbastanza vicina a quella che è la realtà ti ringrazio tantissimo di essere stata qui Shadia e Dai 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 e Roma così Dai e Roma sempre sempre grazie a te Grazie a te